Sì, 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 sì. Sì, bravo, stipendi, stipendi. Attenzione, bella neckbreaker, lasciamo via. Eh sì. Attenzione, se vento davvero vicino a trionfo. Però penso che... ATTENZIONE! Non posso! Ragazzi non l'ho visto! Un'America disaster! Un'America disaster! Non ci credo, non ci credo! No, lo diamo! Vuole finire sul diavolo! Eh, non credo di poter vincere, forse. Eh, non voleva io sottare le scato, eh? Eh sì. Sì, però, insomma, Verni... Lo devi sottolineare dalle scato soltanto battendolo. Eh sì. Dititi! Questo è un colpo importante per il diavolo. Sì, però Verni deve stare attento anche lui. Eh sì, eh sì. Attenzione! Attenzione! Proprio schieramento! Uno! Due! Ancora! E lo diamo in topositi! Sì, perché lo sappiamo nel 3-3 età... Nel 3-3 età... Luglio mi sembra? Sì. Sì, perché il giugno era la salova di linta. Verni è in grande difficoltà, ragazzi. Dopo un inizio così, e poi si era un po' restabilito. No, Andrea. Eh sì, eh sì, mi ha recuperato un po' di fiato. Attenzione! Attenzione, terza corda! Stavolta tenta Superplex, è difficilissimo! Superplex! Simone ce la farà! Simone ce la farà! Wow! Incredibile! E può schienarlo! Però che riesce a ferire! Ancora! Attenzione! Verni! Oh! Attenzione! Lo deve chiudere! Lo deve chiudere adesso! E' il momento di chiudere! E' il momento di chiudere! C'è la stavolta! C'è la stavolta! C'è la stavolta! Uno! Due! No! Niente! Verni riesce a... Resiste a una manovra che ha fatto fuori di Slay con... Mamma mia, ragazzi! E' il secondo! Un'altra cosa! Ce l'ha! Ce l'ha! Uno! Due! Oh! Niente! Verni ancora! Che tempo Verni! Riesce a resistere a... Tutti gli assalti! Questo m'aspettavo! Mi senti bastante! Ciao! Ciao! Ben! Ciao! Ben! 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 Grande messo! Bravo! Sempre! Questi forzi! Ben! Ben! Un'altra manovra! Ben! 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 Grazie! Ben! Ben! Gони! Invece ecco la seconda fincita No, la seconda fincita Quest'oggi, molto oggi Anche Alexander l'ha schienato Quest'oggi ci scrive la storia Se fai il gru batte, vedi E mangiare il titolo da RobbF Però se volete più, tu fai lo stile E a questo punto, prevedo Una grande rivincita Eh si, eh si Ma forse non sarà un match così tanto normale Eh si, per qui da RobbF Stuncate, è tutto Ciao, ciao, ciao Invece Ester Che si vede moltoni Ciao